Il Pro 2000 Plus dispone di 6 tabelle speciali, la tabella bottaccio, sassello, cesena, allodola, standard e modificabile. Tutte queste tabelle non è che per ogni specie dobbiamo utilizzare una stanza E più Pro 2000 Plus, semplicemente sceglieremo la tabella migliore in funzione agli animali che vorremmo tenere nella stanza. Quindi se avremo bottaccio e merle utilizzeremo la tabella bottaccio, se avremo solo allodola useremo ovviamente la tabella allodola, se vorremmo utilizzare cesena o utilizzeremo la cesena, se nella nostra batteria è mista dove avremo bottacci, merli e sasselli, dovremo per forza di cose utilizzare la tabella sassello che è quella che ha bisogno di più ore di luce e comunque permetterà di avere il bottaccio e il merlo, il fringuello, la peppola che cantano nel primo periodo della stagione venatoria e successivamente partirà il sassello. Se sempre nella batteria mista vorremmo tenere anche le cesene, dovremo per forza di cose tenere coperta la cesena da maggio, tenere la coperta con dei teli che filtrano la luce in maniera che crei una penombra tale che gli permette di non entrare in amore. Per vedere se la luce, la penombra che ricreiamo può andare bene, dovremo valutare i sasselli, i bottacci che non sono oscurati e si muovono all'interno delle gabbie tranquillamente, mentre le nostre cesene sottoposte a questa penombra dovranno stare abbastanza ferme nella gabbia. Questa è la luce giusta e le scopriremo poi all'occorrenza, una ventina di giorni prima di utilizzarle poi al passo. Se la batteria delle cesene è numerosa, possiamo addirittura una metà di batteria delle cesene scoprirla in un primo momento, la seconda metà di batteria la scopriremo in un secondo momento in maniera di avere un canto prolungato anche per le cesene.